Mister, una vittoria importantissima, la terza di fila, importante non solo per come è arrivata, anche per la classifica. Importante per la classifica, per come è arrivata, ribadisco contro una squadra forte come il Venezia, le squadre che ci sono affrontate a viso aperto con la voglia di superarsi, e devo dire che i miei ragazzi sono stati straordinari per il livello di una prestazione veramente di grande qualità, di grande forza, di grande energia. Ci hanno rimontato due volte ma non abbiamo mai perso l'ordine e la voglia di provarci e siamo riusciti a portare a casa questa vittoria fondamentale per il nostro percorso. C'è stato anche un pizzico di sfortuna nella rimonta degli avversari, una prestazione convincente dei suoi? Sì, peccato aver preso questo gol proprio nel minuto di recupero a fine primo tempo, che poteva da un punto di vista mentale destabilizzarci, invece abbiamo iniziato la ripresa bene perché abbiamo fatto un grande gol con una grande giocata di Maier e di coda e dunque la squadra da questo punto di vista dimostra una grande solidità dal punto di vista mentale che sarà fondamentale in queste ultime nove partite. Peccato non essere riusciti, nonostante la prestazione, come dicevamo, convincente a mettere il risultato in cassaforte, visto anche le occasioni avute. Sì, che non bisogna dimenticarsi il valore dell'avversario che non ha mai mollato, che ha qualità e l'ha dimostrato anche oggi e di conseguenza bisogna dare valore ancora di più a questa prestazione perché il valore dell'avversario è di grandissimo livello. Coda si conferma? Grandissimo Massimo, nonostante avesse questo piccolo problema, eravamo tutti preoccupati. Ha fatto un provino questa mattina, il regato si è messo a disposizione, ha rischiato anche qualcosa di suo ed è stato premiato con una grande prestazione e due gol. Quanto sono importanti, mister, questi tre punti in attesa anche delle altre gare? Ma sono importanti perché ci permettono di guardare gli altri cosa fanno, ma da questo punto di vista abbiamo superato il Venezia di tre punti, siamo in vantaggio nello scontro diretto perché abbiamo fatto un pareggio e una vittoria, come col Chievo a parte i punti di vantaggio siamo in vantaggio nello scontro diretto e questo sarà fondamentale perché insomma visto il grande equilibrio che c'è in cima alla classifica, essere anche in vantaggio negli scontri diretti può diventare un valore. La squadra adesso riprenderà la preparazione a Roma, subito testa al Frosinone o c'è qualche minuto per gioire da questi 30 secondi di serenità ce li siamo già presi abbiamo concordato con i ragazzi, ho chiesto un sacrificio di stare insieme perché questo è un momento fondamentale del campionato dunque siamo tutti contenti di andare in ritiro, di preparare benissimo questa trasferta di Frosinone contro una squadra di grande valore, lo faremo tutti insieme riposando, alimentandoci nella maniera corretta e preparandoci al meglio per questa grande partita a Frosinone. C'erano adesso il Frosinone e poi la sosta sarà il periodo anche per recuperare le forze? Io penso sul Frosinone e poi avremo tempo di recuperare le energie, ci penseremo.